È umido! Dannazione! Venite tutti in bagno, adesso! Beh, che succede? Che c'è, Schmidt? Che cos'è, uno scherzo? Insomma, perché il mio asciugamano è ancora umido? Perché quello non è il tuo, è il mio asciugamano, Schmidt. No che non è il tuo asciugamano, il tuo è quello rosso. Ti dirò una cosa, amico, non ho mai usato questo, uso quello ogni santo giorno. Oh mio Dio. Questo è così caldo e morbido, è come se fosse stato sempre al sole. Quindi voi due vi siete asciugati i gioielli con lo stesso asciugamano? Molto intimo. Ma sei impazzito, per caso? Che significa? Perché pensi che sia il tuo asciugamano? L'hai mai lavato? No, non lavo l'asciugamano, l'asciugamano assuga a me. Ma chi è che lava gli asciugamani? Non li lavi mai. Perché tu li lavi? Non lavi mai gli asciugamani! E poi che altro dovrei fare? Lavare la doccia? Lavare la saponetta? Ma che razza di idee ti metto? Sono furioso, letteralmente! Esco da quella dannata doccia che profumo come un bambino e poi uso l'asciugamano. Allora ti chiedo una cosa, indossi anche le mie mutande? Sì, a volte sì, e allora? Voi non vi scambiate mai le mutande e siete dei bugiardi! Ci scambiamo sempre le mutande!